Qualcuno dovrebbe dire a vostra zia che una cosa è indossare un cappello da cerimonia con le piume e un'altra è assomigliare a un uccello migratore. Ma se non ci sono ancora arrivata al colletto? Metterò queste scarpe per ballare, questo è certo. Questo vestito... È di tuo gusto? Ti starebbe ancora meglio se fosse leggermente più stretto in vita. Sei bellissima. Mamma, dico solo che se vi ingozzate di Magdalenas, questo mi sembra il mio. Sì, ho capito, mi sento stringere da qualche parte. Dove? In realtà stai solo iniziando a sudare un po' qui sotto. Non puoi sudare, finirai per abitarti tutto il trucco. Mamma, non rovinerò niente. Fa solo caldo. Fa caldo, vero? È che abbiamo una concezione romantica dei matrimoni in campagna e oggi con la crisi climatica non si può pretendere. La recondizionata è al massimo però. Forse sono solo i nervi, è normale. Siamo un po' nervosi. Non è quello, ma... No, no. Mi giro tutto. Calma, avanti, sdraiati qui, sdraiati qui sul letto. No, ti svolgerà l'abito così. Che muoia con l'abito bestirato. Non morirà nessuno. Non sto per morire di più. No, non avrai questa fortuna. Che mi succede? Spira. Non credo che si tratti di un attacco di panico. Non può avere un attacco di panico il giorno delle nozze. Non posso avere un attacco di panico. Non posso. Ma gli attacchi di panico non rendono accolutamente. Altrimenti sarebbero logici, ragionevoli. Lassatevi i bottoni. Ecco. Sgottonomeli. Aspetta. Aspetta.